E oggi come precari, studenti, lavoratori, abbiamo avvocato questo ufficio per dire che sabato 19 vogliamo andare a Roma, vogliamo andare a Roma a protestare sotto quei palazzi del potere che ci fanno pagare la crisi. In questi mesi costruendo questa manifestazione si era aperta una trattativa con Trenitalia per far sì che tutte le persone potessero scendere a Roma, ecco all'ultimo questa trattativa, il prezzo del treno è salito in modo sproporzionato appunto per far sì che le persone non potessero scendere a Roma. Allora come lavoratori, studenti vogliamo dare questa risposta, vogliamo occupare la storia della prescia rossa per dire che noi a Roma vogliamo scendere lo stesso, vogliamo che tutte le persone, i lavoratori, gli studenti possano scendere a un prezzo eco per poter andare a manifestare l'interambiente a Roma. Perché questo gesto che è stato fatto da Trenitalia sotto infezione forse del Ministero degli Interni è solo una provocazione per limitare la partecipazione. Noi siamo qui per chiedere di parlare con qualcuno, chiedere di parlare con chi decide i prezzi dei biglietti, con chi decide i prezzi dei treni, per poter trattare un prezzo eco, un prezzo che sia alla portata di tutti, che possa permettere a chi non ha i soldi di poter scendere a manifestare il proprio dissenso a Roma. E' per questo che oggi abbiamo occupato questo posto delle frecce, il Freccia Club, come azione di protesta e non ce ne andremo finché non avremo delle risposte, finché non parleremo con un responsabile che ci garantisca che potremo partire per Roma con il treno, a un prezzo eco e accessibile a tutti. Ecco adesso, come al solito, fanno intervenire le forze... Siamo qua semplicemente per avere delle risposte. Siamo qua semplicemente per poter parlare con qualcuno, non ce ne andiamo fin da quanto non avremo delle risposte. Sconde la... Sconde la... Sconde la... Sconde la... Ma non è che si le metti le mani a scordi? Mi sapevi che sia una roba dimostrativa che vorremmo fare. Sconde la... Quale il problema? Si ha dimettuto giù quella macchina. Lo soppre il voto di queste. Non so, però questo è quello. Non so, però questo è una cosa che non possiamo accettare, hanno stati presi degli accordi chiari, vogliamo che tutti abbiano la possibilità di partecipare e essere protagonisti in quella giornata. Siamo qua semplicemente per chiedere delle risposte, stiamo chiedendo di poter parlare con qualcuno e di riaprire la trattativa. Ancora una volta la risposta che abbiamo avuto è stata quella della polizia che è subito intervenuta malverando le persone. Non ci sembra una risposta veramente spropositata, stiamo semplicemente chiedendo delle risposte e aspettiamo qua di averle. Non ci saranno date delle garanzie, non accettiamo questo uso spropositato delle forze dell'ordine, l'accelere dentro la stazione, vogliamo semplicemente parlare con qualcuno.